buongiorno amici amiche di youtube come state dopo una settimana di duro lavoro eccomi qua oggi sono sempre qua in mezz'anno al silenzio al verde questo grande panorama quello di dire spero che stiate passando bene questi giorni di relax queste feste andate qua guardate qua che bel posto dove sono ragazzi continuate a seguirmi mettete sempre un mi piace sul mio canale per chi non si è iscritto si iscriva cosa dire ciao amici grazie a tutti grazie